E45, l'inchiesta che tutti aspettavano. 22 indagati dopo le denunce sulla condizione della superstrada. Per la Valtiberina un danno economico ed immagine per il quale qualcuno dovrà pagare. Stop all'inceneritore, la proposta di Luciano Ralli in vista delle primarie del PD Aretino. Poi l'affondo, Bracciagli e Gasperini siano più chiari sul programma. IMU sui terreni agricoli, primo passo indietro del governo dopo le proteste dei comuni. Protezione civile, un'app per conoscere le emergenze del territorio in tempo reale. Alla scoperta del centro d'ascolto Caritas con nessuno escluso. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. In apertura l'inchiesta sulla E45. Nei titoli l'abbiamo definita la strada della vergogna. Vergogna per la condizione in cui verte questa superstrada da anni. Anni di denunce dei cittadini che alla fine hanno portato appunto l'apertura di questa inchiesta. 22 al momento gli indagati, inchiesta che riguarda i lavori di manutenzione che hanno portato poi alle tante buche, ai tanti danni per le auto dei cittadini della Valtiverina e naturalmente non solo. Quello che vi proponiamo questa sera è una riflessione sui danni subiti dalla Valtiverina non solo a livello economico ma anche a livello di immagine. A questo punto qualcuno dovrà pagare questi danni. Che sulla gestione della superstrada E45 con le sue buche e i suoi lavori costantemente in corso ci fosse qualcosa quantomeno di anomalo lo avevano capito un po' tutti. Da anni gli abitanti della Valtiverina protestano per la condizione di un'arteria che anziché risorsa è diventato un serio problema. L'E45 con particolare riferimento al tratto che da Sansepolcro conduce alla Romagna è diventata sinonimo di strada ad alto pericolo. L'inchiesta, coordinata dalle procure di Forlì e di Arezzo, salita agli altari della cronaca in queste ore, potrebbe aprire un piccolo spiraglio per avere un po' di giustizia. Al momento sono 22 gli indagati fra legali rappresentanti, dirigenti e direttori di lavori di numerose società che nel periodo dal 2010 al 2014 hanno eseguito interventi di manutenzione miglioramente messa in sicurezza sulla E45 nei suoi due versanti, Romagnolo e Toscano. L'indagine riguarda 23 contratti per un importo superiore ai 15 milioni di euro. Il danno causato alla Valtiverina dalle condizioni di questa strada è probabilmente incalcolabile. Non si tratta semplicemente dei danni alle auto, gli incidenti o le ore di coda per i cantieri. La Valle del Tevere ha dovuto subire anche un danno alla propria immagine. Chi può cerca di non transitare da queste parti. Chi può cerca di escludere quella superstrada dal proprio itinerario. Per una terra in costante ricerca di turisti, l'E45 non rappresenta di certo il miglior biglietto da visita. Basta fare una ricerca online e rendersi conto che l'utilizzo di questa arteria, in particolar modo nel tratto Valtiverino e Romagnolo, è altamente sconsigliato. Se mai un giorno si arrivasse ad un processo, sarebbe bene che i comuni tiberini si costituissero parte civile per chiedere conto anche economicamente del danno subito. La questione sicurezza ora è una questione sempre al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni ad Arezzo e che inevitabilmente sarà al centro dell'attenzione in campagna elettorale. Ebbene è successo un altro caso eclatante nei pressi dell'ospedale San Donato. Attende il marito all'interno della propria auto in sossa nel parcheggio scoperto adiacente all'ospedale. All'improvviso un uomo irrompe a bordo, spinge la donna fuori dal veicolo, mette in moto e fugge. L'inquietante episodio si è verificato nei giorni scorsi proprio di fronte all'ospedale di Arezzo. E a proposito di campagna elettorale, è iniziata la campagna per le primarie del Partito Democratico Aretino. Oggi è la volta dell'intervento di Luciano Ralli che ha presentato alla stampa il proprio programma. Ralli dice stop all'inceneritore, poi lancia un affondo ai suoi competitor Bracciali e Gasperini dice siano più chiari sul programma. Le primarie non indeboliranno il Partito Democratico Aretino, anche se è indubbio che i tre candidati hanno profili diversi. Luciano Ralli lancia così la sua sfida a Matteo Bracciali e Stefano Gasperini, dalla quale uscirà il candidato a sindaco di Arezzo per il centro-sinistra. Lavoro, cultura, turismo, i tre punti in primo piano nel programma di Ralli, il quale non rinuncia a lanciare una stoccata ai suoi competitor. Gli aretini non possono dare deleghe in bianco. Chi si candida deve chiarire la propria posizione rispetto ai temi centrali della città. Uno su tutti il tema dell'inceneritore. Vorrei essere il sindaco che lo spenge, dice Ralli. Ho parlato di stimolo agli altri amici e competitor perché io ho un'idea chiara della città. C'è stato un passato, un medico che ha chiuso l'ospedale psichiatrico, vorrei essere il sindaco medico che spegne l'inceneritore. Su questo ci vuole una chiarezza di idee, una determinazione che non è per tutti. Arezzo viene dall'esperienza di amministrazione Fanfani. Innanzitutto le chiedo se può dare un giudizio a questa amministrazione. Se lei si vorrà porre in continuità o in discontinuità rispetto a queste esperienze. Il giudizio sui sindaci lo dà la storia. Siamo in una fase diversa perché quello che è successo nel 2009 che si rende palese ora, proprio in questi anni, richiede una progettualità diversa. Sia sul tema dei servizi, sul tema per esempio delle tariffe. Non possiamo continuare a dare servizi di qualità superiori ma a prezzi non più sostenibili da maggior parte della nostra cittadinanza. Si insedierà domani a Perugia il tavolo misto tosco Umbro per lo studio di fattibilità della stazione per l'alta velocità medio Etruria da realizzare lungo la direttissima Roma-Firenze. Il tavolo si riunirà alle 11 nella sala giunta di Palazzo Donini. Parteciperanno l'assessore regionale all'infrastruttura, Vincenzo Ceccarelli, la presidente della regione Umbria, Catiuscia Marini e l'assessore regionale Umbro, Silvano Rametti. Media Etruria interesserà gli utenti dei territori di tre province, Perugia, Siena e Arezzo. Tante le ipotesi sulla collocazione della nuova stazione, poco ancora le certezze. Sul tavolo sono due le soluzioni più facilmente percorribili. Una stazione nell'area tra Arezzo Sud, Castiglion, Fiorentino e Cortona e l'ipotesi chiusi in provincia di Siena. A spingere per una soluzione aretina, assieme ai diretti interessati, sono anche gli Umbri. Nei mesi scorsi a Perugia è stato presentato il lavoro realizzato da una commissione tecnica presieduta dall'ingegnere Stefano Ciurnelli. All'interno si mette in evidenza come l'area a sud di Arezzo, nei pressi della frazione di Rigutino, sarebbe quella ideale. Qui infatti la linea ferroviaria direttissima e quella lenta corrono molto vicine. E quindi staremo a vedere che tipo di soluzione verrà adottata per questa importante infrastruttura. Voltiamo pagina, parliamo di un altro tema particolarmente dibattuto in queste ultime ore, quello relativo all'Imu sui terreni agricoli. Questa novità che aveva scatenato le proteste, non solo degli agricoltori, ma anche dei comuni aretini. ebbene c'è da registrare un passo indietro del governo. Primo passo indietro del governo sull'Imu, obbligatorio sui terreni agricoli. La scadenza per il pagamento dell'imposta non sarebbe più fissata per il 16 dicembre, ma soltanto nel 2015. Resta comunque la polemica per quella che a tutti gli effetti è una nuova tassa. Tutto è iniziato con il decreto dotato 28 novembre 2014, con cui il governo rende obbligatorio il pagamento dell'Imu sui terreni agricoli. Fino a ieri era facoltativo per tutti i comuni, mentre da oggi lo è solo per quelli al di sopra dei 600 metri di altitudine. La novità coinvolge tutti i municipi dell'Aretino, con la sola eccezione di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Chiusi della Verna e Montemignaio. Tra i punti più contestati c'era proprio la richiesta di introdurre la tassa nell'anno 2014. Richiesta irricevibile per la maggior parte delle amministrazioni comunali, che hanno già approvato il bilancio e l'assestamento. Qui sta l'altro punto particolarmente contestato dai comuni. Nello stesso decreto, infatti, si annunciano tagli che si aggirano attorno alle 200.000 euro per Sansepolcro e arrivano a toccare gli 800.000 euro a Cortona. La cifra dei tagli è stata definita considerando una stima sui maggiori introiti che i comuni dovrebbero incassare proprio a fronte della revisione dell'esenzione Imu. Novità respinte sin da subito dai comuni aretini. L'amministrazione comunale di Sansepolcro ha parlato di decisione assurda, mentre Cortona aveva approvato un ordine del giorno che chiedeva al governo di sospendere l'attuazione di questo decreto e di attivare un tavolo di concertazione con gli antilocali e le associazioni di categorie agricole. Il prosindaco di Arezzo, Stefano Gasperini, ha invece incontrato i rappresentanti delle associazioni degli imprenditori agricoli per avere pareri e riscontri su questa vicenda. Questi spunti saranno inseriti in un atto politico che costituirà un indirizzo di giunta o di consiglio sulla questione. Un impegno condiviso per debellare l'amianto dal territorio comunale di Arezzo. A chiederlo sono i popolari per Arezzo che si rivolgono all'amministrazione comunale promuovendo un intervento di bonifica in città dalla presenza dell'Eternit. Il minerale diabolico, definito mortale dalla ricerca medico-scientifica è messo al bando dall'Unione Europea. Nonostante tale pericolo per la salute pubblica, il Comune di Arezzo, fanno notare i popolari, non ha mai attivato una forte politica di gestione e di rimozione dell'amianto esistente con l'esposizione all'Eternit che continua ad essere presente in numerose strutture del territorio aretino. I popolari per Arezzo propongono dunque all'amministrazione di prevedere una collaborazione con USL e ARPAT per avviare una laboriosa ma obbligatoria opera di censimento delle strutture contenenti Ethernet prevedendo poi incentivi economici per favorire lo smaltimento da parte dei privati e per tutelare la salute dei cittadini. Protezione civile arriva a un'app per conoscere le emergenze del territorio in tempo reale. Si chiama ProCiv Pass Prevenzione e Allertamento Sicurezza ed è il nuovo modo per conoscere in tempo reale gli stati di allerta, le principali mappe di rischio idrogeologico e i contenuti del piano di protezione civile comunale. Si tratta di un'applicazione e di un sito web sviluppati grazie ad un finanziamento regionale che copre il 90% dei costi dalla protezione civile dei comuni di Arezzo, Cortona e Subbiano che sono tra i primi comuni italiani a dotarsi di tale piattaforma. Il piano di protezione civile deve essere portato a conoscenza di tutti i cittadini è molto importante quindi con questa applicazione che ognuno dovrebbe avere nel proprio cellulare o tablet potrà avere le informazioni sulle evoluzioni meteo ma anche sulle situazioni di emergenza informazioni dirette da parte dell'amministrazione quindi è uno strumento di utilità quotidiana. Questo strumento ci aiuterà tantissimo perché i cittadini avranno anche diciamo subito e istantaneamente l'allerta meteo e anche il peggioramento e in questo modo qui sapranno dove andare insomma a poter dire c'è una strada allagata lì non ci vado e vado da un'altra parte oppure abbiamo queste aree di sicurezza in cui uno si può sostare aspettare e chiamare l'amministrazione chiamare insomma la protezione civile. Quando succede i disastri è troppo facile fare in mia colpa prima, prima, sempre prima bisogna prevenire far sapere quali sono le strutture idonee dove collocarsi se vengono gli eventi speriamo che non vengono però purtroppo anche noi abbiamo buona parte la maggior parte del comune è il comune montano. Abbiamo voluto dare uno strumento per riuscire a mettere in pratica quello che dice sempre anche il capo dipartimento della protezione civile Gabrielli cioè bisogna far conoscere i rischi del territorio ai cittadini bisogna che i cittadini siano pronti all'emergenza ecco questo è uno strumento che traduce il piano di protezione civile in termini intellegibili da parte dei cittadini. Superamento del sistema delle convenzioni in tempi certi questo è ciò che chiediamo per i medici precari dell'emergenza urgenza che operano da anni in condizioni di incertezza lo afferma il vicepresidente della commissione sanità del consiglio regionale toscano Stefano Mugnai nel giorno in cui i precari della 118 hanno tenuto un presidio di protesta sotto il consiglio regionale per poi essere ricevuti dai vertici della giunta toscana finora racconta Mugnai che più volte si è occupato della questione questi medici che operano nel settore forse più delicato della sanità hanno visto negli anni stabilizzarsi unicamente la loro precarietà non solo non hanno garantita neppure la copertura assicurativa chiediamo ai cittadini di Arezzo di votare per sostenere l'indicazione di origine negli alimenti e con essa il made in Italy e quindi il made in Tuscany a tavola sono parole di Tulio Marcelli presidente di Coldiretti Arezzo in merito alla consultazione pubblica online per spingere a livello europeo la necessità di rendere le etichette più trasparenti per informare al meglio i cittadini Coldiretti Arezzo lancia un'iniziativa a supporto di questa importante battaglia nazionale da mercoledì prossimo 10 dicembre sarà presente infatti un infopoint presso il mercato di Campagna Amica di Piazza Giotto e sarà poi in funzione in occasione dei mercati nelle botteghe che appartengono alla rete chilometro zero come ogni giovedì torna l'appuntamento con nessuno escluso lo spazio del terzo settore che prosegue il miniciclo di puntate dedicato ai servizi della Caritas in particolar modo questa sera andiamo a conoscere il centro d'ascolto diocesano appunto della Caritas di Arezzo Cortona Sansepolcro ricordiamo anche che nessuno escluso lo spazio di informazione sociale di TSD è inserito all'interno del percorso le abilità diverse della disabilità promosso dalla Caritas diocesana finanziato dal bando CEI 8x1000 2012 vediamo la settimana scorsa ci siamo occupati del servizio di accoglienza richiedenti protezione internazionale della Caritas diocesana oggi ci occupiamo del centro di ascolto diocesano che cos'è il centro di ascolto diocesano qual è la sua funzione primaria nel centro di ascolto si presentano persone che per vari motivi chiedono un sostegno un confronto un bisogno di orientamento e anche una vicinanza sia morale che può capitare anche proprio un aiuto pratico materiale infatti al centro di ascolto vengono offerti la maggior parte dei servizi che la Caritas diocesana ha attivato nel territorio si rivolge prevalentemente alle persone alle famiglie residenti nel territorio di competenza della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro però vengono accolti comunque tutti coloro che hanno necessità di una risposta ai bisogni primari indipendentemente dalla provenienza dalla residenza e dalla religione se una persona si trova in difficoltà come può accedere al centro di ascolto diocesano? il centro di ascolto si trova presso la sede della Caritas diocesana è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 mentre pomeriggi andiamo su appuntamento la persona che ha bisogno basta che venga qua e verrà accolta da un operatore al front office che farà un primo ascolto sulle motivazioni e i bisogni per cui si è recata dopodiché le fornirà delle informazioni base e verrà spiegato quali sono i servizi della Caritas a breve riaprirà presso il convento di San Domenico ad Arezzo il punto di accoglienza notturna per tutti coloro che in questo periodo invernale sono privi di un alloggio o di una dimora stabile è intenzione dell'arcivescovo Riccardo Fontana incontrare e coinvolgere quanti più volontari possibili provenienti dalle parrocchie della città e di tutta la diocesi che siano disponibili a prestare un po' di tempo per tutte le operazioni necessarie al buon funzionamento dell'ospitalità per questo il vescovo ha deciso di convocare una riunione aperta a tutti gli interessati giovedì 11 dicembre alle 18 presso il salone del palazzo Vescovile in piazza del Duomo ad Arezzo primamente questa la nostra ultima notizia ricordiamo subito dopo la sigla il consueto appuntamento con il meteo grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi a tutti i nostri programmi